Dalla via, tu sei un pericolo pubblico Ederson, via quella palla, su, guarda lì, perde la palla malamente, col portiere fuori dall'area di rigore addirittura, direttamente in porta, non riesce a beccare la porta, fa lo clamoroso errore di Barella, vai, 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 no, 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 no. Cos'hai fatto, Lautaro Martínez? No, Lautaro Martínez? No, 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 no. Si, poi è fuoriclasse, lo Calvin. Per occasione, vaia. Bernardo la mette in mezzo. Si, 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 Si. Mai si, 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 Si. Per prestareка da te va e vai, e vai, è valuta. Non lo dico, non lo dico che sta torpetta portava male, la mischia, è stato bravo, è freddo, attenzione, Timarco, e poi ancora ci credo, e poi ancora Lukaku, è il miglior giocatore del City Lukaku, è sempre davanti alla porta, ogni volta è davanti alla porta Lukaku, numero uno, il tiro di Toten, la parata di Onana, Belanova ancora, all'indietro per Brozovic, che la scodella su queste cose fa, non ci credo, non ci credo ragazzi, sulla linea, non ci credo, Ederson la parata, come non si sa, come ha fatto non si sa, allora, come ha fatto non si sa, non è che è rotto l'orologio, non è che è rotto l'orologio, dobbiamo guardare se è entrata questa parte, io l'ho vista dentro, io l'ho vista dentro, pronto a battere di Marco, grandissimo, appare il miracolo, di Ederson, Che è lì, c'è lì, Grazie!